Torna in primo piano l'avvertenza OM Carrelli di Bari. La CGL infatti contesta l'accordo siglato da altre sigle sindacali che prevede che l'azienda torni in possesso dei macchinari già prodotti in cambio del ritiro delle denunce presentate nei confronti dei dipendenti che per molti mesi hanno dato vita ad un presidio dinanzi ai cancelli della fabbrica. Maria Grazia Lombardi. L'accordo non convince nel merito e nella forma. Lo scorso dicembre la FIOM CGL non ha partecipato alla sottoscrizione del verbale tra l'azienda tedesca Kion e i sindacati CISL, UIL e UGL presso l'assessorato regionale al lavoro. Il documento pone fine all'avvertenza che vede coinvolti 220 operai fino a due anni fa in servizio nello stabilimento di Modugno. L'accordo prevede da una parte che l'azienda torni in possesso dei macchinari e di 250 carrelli elevatori prodotti nello stabilimento. In cambio l'azienda tedesca assicura il ritiro delle denunce penali avanzate contro 29 operai che per sette mesi hanno impedito ai camion della società di entrare nel capannone con un presidio permanente ai cancelli della fabbrica. Un baratto inaccettabile per la CGL che vede minato il diritto dei lavoratori a protestare e il 16 gennaio farà ricorso per comportamento antisindacale. Intanto è attesa per il 19 gennaio la terza visita nello stabilimento di Vincenzo Lasalvia, imprenditore interessato al rilevamento del sito. Secondo la CGL lo troverà cambiato. Ha visitato le prime volte un sito con dei macchinari, ora ci troverà un sito senza macchinari e soprattutto anche rispetto al capannone, mentre prima era disponibile, oggi si dice che è disponibile, fermo restando, che è la Chion che dovrà dare l'ultima parola anche rispetto alla cessione del capannone. Penso che troverà condizioni peggiorative.